Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che si porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. In questo nostro appuntamento saranno i tre i temi che affrontiamo. Ecco i titoli. Parleremo del bilancio con l'approvazione della prima variazione 2022-2024 con la proposta di legge che passa a maggioranza, 23 voti a favore. Poi parleremo del 21 marzo, giornata delle vittime di mafia, evento per gli studenti al teatro della compagnia e poi una mostra imperfetta a Palazzo del Pegaso, i lavori degli studenti di Montaione e Gambassi Terme. E allora il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024 della Regione con 23 voti a favore e 11 contrari. Ha approvati anche tre emendamenti della Giunta per un contributo all'Università di Firenze per un progetto di studio, per un contributo invece per la realizzazione di spazi di co-working e poi un contributo straordinario a favore del Comune di Empoli per interventi alla rete idrica in località Molinuovo e Pian Grande. Sono stati i respinti, gli emendamenti e tre ordini del giorno di Fratelli d'Italia. Ha approvati anche con 23 voti a favore e 13 contrari gli interventi normativi collegati alla prima variazione. Il Consiglio regionale ha approvato una manovra che comporta una variazione al bilancio di previsione che per il 2022 supera 900 mila euro, è di 450 mila euro sul 2023 e di oltre 4 milioni di euro per il 2024. Sul fronte delle entrate si registra un aggiustamento delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale regionale all'IRPEF all'imposta sulle persone fisiche in adeguamento alle indicazioni che vengono dalla legge di stabilità del Governo. Questo comporterà un maggior introito di circa 450 mila euro all'anno che andrà però a colpire i ceti medio-alti della popolazione. Per quanto riguarda le voci di spesa i cambiamenti più importanti che vengono fatti con questa variazione riguardano i territori di alcune province. In particolar modo viene rimodulato un contributo di quasi 430 mila euro per il comune di Palazzuolo sul Segno per la realizzazione di una struttura destinata ad ospitare i servizi sanitari. 250 mila euro sono destinate al comune di Buti e c'è uno stanziamento aggiuntivo di oltre 3 milioni e mezzo di euro che viene destinata alla realizzazione del ponte sul fiume Serchio e che va ad unirsi ad uno stanziamento della provincia di Lucca, del Governo e della Regione che già ammontava quasi 20 milioni di euro. Si tratta della prima variazione al bilancio regionale a cui ne seguiranno presto delle altre destinate ad offrire risposte concrete al territorio toscano e a molte delle esigenze che la comunità con la fase di superamento della pandemia attende. A un voto positivo si conferma la volontà di Italia Viva di questo anno di non aumentare le tasse una battaglia politica che abbiamo condotto e anche in questa prima variazione la riconferma praticamente anche dell'addizionale IRPF e degli scaglioni così come delle tariffe per noi è un elemento importante non era il momento di aumentare le tasse siamo stati in grado di adeguare le nostre previsioni fiscali le previsioni di riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale questo è positivo in delle settimane che sono molto dure per tutti i cittadini toscani come per tutta Italia dove il carbolletto diventa insostenibile la riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale l'assegno unico per la famiglia e la piccola forma di riduzione che proviamo a fare a livello regionale può cercare di alleviare quello che è un aggravio che altrimenti rischia di essere insostenibile per le famiglie toscane. Purtroppo è un giudizio ancora una volta negativo non ci ha stupito in positivo neppure stavolta la giunta si tratta purtroppo ancora una volta di una serie di provvedimenti e di misure che vanno a interessare settorialmente alcuni territori quindi sono interventi isolati anche in questo caso privi di una sostanziale organicità stavolta però ci sono due misure sulle quali ci siamo soffermati anche in commissione la prima che è l'aumento della pressione fiscale è innegabile benché ci venga passato il concetto di un allineamento a livello nazionale dei provvedimenti di riduzione delle aliquote in realtà questa sarà una misura che impatterà e impatterà soprattutto su quei ceti medi che purtroppo in questo paese scontano evidentemente il fatto di essere coloro che in qualche misura come dire sostengono il PIN nazionale ancora una volta si fa una scelta ben precisa oggi il cittadino toscano che magari ha una partita IVA che magari fino appunto a qualche mese fa aveva una trattenuta IRPEF del 41% guadagnando 50 mila euro ad oggi non solo avrà ancora il carico fiscale appunto che magari è regato a una partita IVA ma avrà una trattenuta del 43% e un addizionale regionale più alta in realtà non si tratta di un aumento delle tasse peggio ancora si tratta dell'aumento dell'aliquota regionale IRPEF puntata su chi guadagna tra i 50 e i 55 mila euro lordi all'anno si tratta dei soliti 145 mila 150 mila circa cittadini toscani che altro non sono che i giovani imprenditori le partite IVA le ditte individuali i baristi gli storatori i liberi professionisti gli avvocati i commercialisti cioè quella fascia produttiva che esce dalla crisi la regione toscana oggi li colpisce con un adeguamento dell'IRPEF gli aumenta le tasse questa variazione del bilancio è incomprensibile innanzitutto siamo a marzo e la regione fa una variazione di bilancio su interventi spot completamente slegati da una programmazione organica e coglie l'occasione essenzialmente di aumentare gli stipendi ai presidenti del consiglio di amministrazione che possono cumulare il reddito come amministratore delegato visto il periodo di grande incertezza e crisi economica riteniamo questa decisione veramente fuori luogo è anche un messaggio veramente sgradevole verso i cittadini che tutti i giorni sono a combattere con le difficoltà economiche della mancanza di lavoro e tutto quello che sappiamo benissimo legato sia all'aumento dei costi dell'energia che delle materie prime e anche delle derrate alimentari Ogni giorno è il 21 marzo la lotta alle mafie è una grande battaglia di civiltà che possiamo vincere tutti insieme siate protagonisti della storia che difende tutti i diritti così il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo si è rivolto ai tanti studenti presenti al teatro la compagnia di Firenze per celebrare la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafie organizzato da Libera Toscana ogni 21 marzo Noi dobbiamo sempre stare dalla parte giusta della storia quella che combatte contro le mafie quella che tutela la legalità e dobbiamo farlo tutti insieme con un patto sociale istituzioni, forze dell'ordine, scuole, ragazze, ragazzi è una sfida collettiva è un cambio culturale che noi dobbiamo proporre il mio impegno in politica nasce proprio per questo era il 23 maggio del 1992 e arrivò in un evento in una giornata come questa di sole in cui eravamo tante ragazze e tanti ragazzi insieme la tragica notizia dell'esplosione dell'autobomba e della morte di Giovanni Falcone e della sua scorta lì scattò qualcosa dentro di impegno civico di impegno collettivo ecco io ai ragazzi ho mandato questo messaggio non siate mai indifferenti non giratevi mai dall'altra parte la mafia si combatte tutti insieme e si combatte solo se ci riusciremo a portare un grande cambiamento culturale in ognuno di noi il pericolo maggiore è quello di sottovalutare le mafie e i fenomeni mafiosi perché non ricorrono più o non ricorrono più tanto ad azioni violente ed eclatanti la stagione delle stragi è finita è stata acquisita dalle mafie dalla cosa nostra ma anche dall'andranghe dalla consapevolezza che non conviene sfidare apertamente lo Stato ma conviene come hanno sempre fatto storicamente infiltrarsi senza far troppo rumore e quindi l'attenzione deve essere ancora più importante le inchieste giudiziarie anche in Toscana dimostrano che il pericolo è grave abbiamo fatto numerose indagini che hanno consentito di accertare che le mafie investono si infiltrano cercano di incunearsi anche all'interno di imprese di acquisire favori dalle istituzioni abbiamo dimostrato che alcuni imprenditori anche locali con pochi scrupoli non hanno avuto molti scrupoli appunto a fare affari con le mafie per cui bisogna tenere alta l'attenzione perché altrimenti la corruttela che le mafie portano con sé potrebbe inquinare maggiormente la parte sana dell'economia e quindi anche della società la memoria in realtà non si fa in un giorno il 21 marzo è la giornata che noi abbiamo scelto come primo giorno di primavera come simbolo di rinascita ma la memoria è un percorso che inizia il 21 marzo e che finisce il 21 marzo successivo e così avanti per noi memoria è 365 giorni all'anno oggi è soltanto un giorno a cui dedichiamo in particolare questo momento ma nelle scuole con la cittadinanza durante tutto l'anno noi cerchiamo di portare questo tema costantemente la memoria sia delle vittime innocenti delle mafie ma anche la memoria per chi subisce dei soprusi per chi oggi è in situazioni di difficoltà non ci dimentichiamo che adesso c'è una guerra molto vicina in atto e noi con i ragazzi parliamo anche di questo perché è giusto parlare sì della storia della mafia sì di quello che la mafia fa oggi ma è anche giusto entrare nelle scuole e non chiudere gli occhi ma anzi dire bene adesso c'è questa situazione parliamo anche di questo perché non ci dimentichiamo che le mafie si inseriscono dove ci sono guerre dove ci sono pandemie si sono inseriti in questa pandemia e quindi è bene tenere gli occhi aperti su tutto quello che ci circonda lo spazio espositivo Carlo Azzeglio Ciampi con ingresso da Via dei Pucci ha ospitato la mostra dei lavori dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo Statale Gonnelli di Montaione e Gambassi Terme l'esposizione risponde a un impegno del presidente Mazzeo prima delle Paralimpiadi di Tokyo quando al Palazzo del Pegaso venne presentato il libro sui lavori dei ragazzi realizzato come un omaggio e un incoraggiamento a tutti gli atleti paralimpici in vista dell'evento sportivo di Tokyo 2021 le opere grafiche riprodotte in quel libro sono arrivate così in esposizione al Palazzo del Pegaso per essere presentate ai cittadini che quindi hanno visitato in moltissimi la mostra nello spazio espositivo regionale un messaggio forte un messaggio emozionante il racconto attraverso lo sguardo delle ragazze dei ragazzi più giovani degli studenti della scuola Gonnelli di Montaione e Gambassi Terme va nella direzione di mandare un messaggio di speranza da un lato e dall'altro un messaggio di grande forza un viaggio bello che è passato nella redazione di un libro I am perfect o imperfect si può leggere in due modi differenti io sono perfetto o imperfetto non c'è perfezione o imperfezione c'è l'uomo c'è ciascuno di noi c'è la donna c'è la persona al centro e questa mostra stupenda perché realizzata da ragazze e ragazzi rappresenta il volto dell'Italia migliore allora un grazie a loro un grazie ai docenti un grazie all'amministrazione comunale davvero oggi sono orgoglioso di ospitare questa mostra da un significato forte e profondo in Consiglio regionale lo sport è da sempre considerato lo strumento che al di sopra di tutto ci porta l'identificazione della propria personalità e la socialità lo sport attraversato attraverso il messaggio della disabilità che porta all'unicità e all'inclusione diventa di un valore inestimabile raccontato attraverso questi quadri meravigliosi e raccontato attraverso questo progetto che si porta avanti da anni e che è un progetto vincente proprio perché ci insegna a partire da questi ragazzi che sono il nostro futuro quali sono i reali valori che oggi devono portarci a parlare di uguaglianza sotto tutti i profili siamo particolarmente orgogliosi di essere stati ospitati dal Consiglio regionale con questa mostra che sottolineo sono disegni fatti dai ragazzi della scuola superiore di primo grado dell'istituto comprensivo di Gambasi Terme e Montaione quindi i disegni che vedete rappresentano gli atleti paralimpici quindi comunque sono persone che nella loro vita si sono trovate davanti a degli ostacoli e li hanno saputi diciamo affrontare appunto ottenendo dei grandissimi risultati è un messaggio molto importante quello che il professor Catone con questo progetto che si chiama Oltre Rete ha voluto insegnare ai nostri ragazzi gli atleti hanno questo libro diciamo perché il Consiglio regionale ha prima stampato questo volume che ha racchiuso comunque tutti i disegni questo libro è stato stampato appunto dal Consiglio regionale e inviato a Roma e ha seguito gli atleti paralimpici proprio nella trasferta di Tokyo dell'agosto 2021 quindi diciamo ha portato anche fortuna perché i risultati sono stati ottimi a questo ha poi seguito la mostra appunto che ha messo adesso in luce tutti quelli che sono stati appunto i lavori dei nostri ragazzi dedicati ad affrontare un tema che è quello della comunque diversità si sa che i ragazzi nel periodo anche pre-adolescenziale cominciano a conoscere loro stessi e si approcciano al mondo degli adulti al mondo degli altri quindi il messaggio che cerchiamo di far passare con questa mostra significa sicuramente aprirsi all'altro aprirsi al rispetto dell'altro anche andando incontro a chi ha delle diverse abilità e sottolineo opere perché spesso i lavori dei ragazzi in ambito scolastico sono considerati semplicemente degli elaborati da valutare invece in questo caso ci troviamo di fronte proprio delle vere e proprie opere dell'ingegno che dimostrano già dei ragazzi di 11, 12, 13, 14 anni sono in grado di raccontare la società di parlare di temi alti e di far sentire la loro voce a qualsiasi livello per cui sono molto contento di questa opportunità soprattutto in momenti così difficili come quelli che stiamo vivendo e con questa mostra si conclude il nostro appuntamento mi ricordo per tutte le informazioni e gli aggiornamenti il sito www.inconsiglio.it io vi ringrazio per essere stati con noi vi do appuntamento tra sette giorni quando saremo ancora insieme dentro il Consiglio per aver guardato il nostro